Ciao a tutti, ciao a tutte, io sono Giovanni Villani, direttore metropolitane e diversamente dal solito sono in compagnia di Milù, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tutti e tutte. Ma soprattutto per questa intervista particolare siamo nella Bat Caverna di Adriano Viterbini. Benvenuto. Ciao a tutti, grazie per avermi ospitato. Grazie a te, grazie a te per aver accettato la nostra chiacchierata, la nostra intervista. Ti raggiungiamo appunto nel luogo dove molte cose nascono, come si vede da dietro ci sono tante belle cose che producono idee, musica e anche vibrazioni. Lì ci sono diverse vibrazioni pronte per essere realizzate, ma soprattutto l'occasione è proprio il passaggio di Adriano Viterbini, ma soprattutto degli I Hate My Village al Super Aurora Festival, una novità sul panorama italiano che salutiamo e iniziamo subito a fare un grande tifo per la realizzazione, l'esecuzione e anche il seguito, ma appunto era biottissima l'occasione per avere, parlare di un disco che radioelettrica suona molto spesso, su radioelettrica suona molto spesso. Never Mind the Tempo è anche entrato, è uscito da pochi giorni, poche settimane, ma è già nella playlist delle cose belle del mese di giugno. Mi sa che a luglio qualcos'altro tornerà perché veramente lo stiamo consumando. Miluk, tu hai trasmesso già diverse volte, ma qual è la traccia che più ti ha convinto e più ti ha... Allora, la mia preferita è... cioè la mia preferita, mi piacciono tutte, però se dovessi sceglierne una è Italia Paura, perché davvero già dal titolo rappresenta anche il mio stato d'animo in questo momento e poi quando l'ho sentito la prima... è stata la prima traccia che ho sentito perché mi ha colpito il titolo, devo essere onesta, e da lì me ne sono innamorata e lo ascolto tantissimo il disco, tanto tanto Ah, grazie. Adriano, io e te ci siamo conosciuti, secondo quanto dice questa tua firma, nel 2010, quindi 14 anni fa, e giustamente tu mi correggevi anche quando io cercavo di trovare delle etichette del posizionamento di genere di quel progetto. Qui hai veramente tu e i tuoi compagni, ovvero Alberto Ferrari, Marco Fasolo e Fabio Rondanini, avete alzato enormemente la sticella. Ma la prima domanda che ti faccio è, I hate my village, come... ecco, scansiamo tutto il discorso di generi, ma entriamo più in una cucina, perché ognuno porta i suoi ingredienti, ognuno è... sono quattro chef stellati, stellari anzi, ma portano le loro storie, le loro anche attività, progetti di gruppo, progetti solisti, interessi di gruppo, interessi personali. Quindi è veramente una cucina alla... alla The Bear, quasi, una roba da stelle Michelin. Come si approccia Adriano Viterbini al progetto I hate my village e poi al creare un disco degli I hate my village. Allora, innanzitutto, raga, grazie mille per le parole che avete speso, mi fa veramente piacere. Come ci approcciamo? Allora, ti dico, funziona così. Io e Fabio Rondanini viviamo a Roma. Ci siamo conosciuti anche noi una decina di anni fa e abbiamo cominciato a suonare insieme perché avevamo in comune questo amore per alcune sonorità di musica africana. Io più legate alla musica Tuareg e Fabio un po' più all'afrobeat, Fela Kuti e tutto quello che gira intorno a quel mondo lì più percussivo. Semplicemente ci siamo dati un appuntamento, ci siamo visti in un garage, in un posto dove poter suonare, abbiamo cominciato a registrare, a fantasticare su possibilità musicali che ci potessero portare in giro a suonare. Da lì abbiamo messo insieme, capitalizzato un po' di idee che nel tempo ci hanno convinto e così spinto a provare a registrare un album, a registrare qualcosa che potesse rimanere e che potesse documentare l'incontro e l'abbiamo registrato insieme a Marco Fasolo perché ci era sembrata all'epoca la persona più adatta per poter registrare quel tipo di musica. Marco registra tutto quanto in analogico, quindi senza la facilità di buttare tutto come succede con il digitale, per esempio con Pro Tools tu registri un'idea, se non ti piace la cancelli subito e la riregisti, sul nastro è diverso perché c'è, innanzitutto ci sono dei costi, c'è tutto il setup che viene fatto per poter registrare, insomma, visto a dire una rottura di una seccatura. No, 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 anzi, vai, vai, continua, per favore. Per cui tu arrivi, per cui tu arrivi alla registrazione responsabilizzato e già sai quello che devi fare, quello che fa colui che ti registra è semplicemente fare una fotografia di chi sei in quel momento, nel bene e nel male, nel senso che certe volte ti porti a casa un po' di errori, certe volte la fortuna è di avere una performance più illuminata di altre, no? Niente, tutto questo preambolo per dirti che è nato così per la voglia di fare cose belle, che ci piacessero prima di tutto a noi. A un certo punto abbiamo registrato questo album, era tutto strumentale, abbiamo deciso di farlo, di provare a farlo cantare a quello che pensavo, penso fosse, all'epoca era il nostro cantante preferito, lo è ancora, che è Alberto Ferrari, e quindi gli abbiamo mandato tutte quante le tracce e lui in quattro giorni ce l'ha rimandato tutto cantato. Poi in realtà abbiamo scelto di lasciarne solamente quattro o cinque per rendere l'album metà strumentale e metà cantato e non snaturare troppo, mentre invece in questo secondo album dove ci siamo accorti che siamo diventati proprio un gruppo, quindi le abbiamo scritte insieme, c'è stata la volontà di scrivere canzoni e non solo fare degli esperimenti, e quindi la cosa interessante di questo nuovo lavoro, di questo nuovo incontro, è che quello che facciamo è sì sperimentale, ma non fine a se stesso, c'è una volontà di condividere, di farsi ascoltare, e in questo devo dire che la forma canzone aiuta e apri le braccia a tutti, a un pubblico, mi sembra la cosa più giusta da fare. Per quanto riguarda una paragone, anche per un po' a illuminare o dare un'idea a chi non ha mai sentito gli I Hate My Village, ma neanche ha idea di che forma ha questo progetto, forse è un pochino più presente nella memoria delle persone che ci stanno ascoltando, seppure appunto la platea di Radio Elettrica è di appunto grande interesse verso la registrazione in analogico, quindi molto molto tecnica, quindi non ti far problemi Adriano nel entrare anche nel quanto bugnato c'era le porte della... insomma vai tranquillamente. Però il progetto The Smile, progetto parallelo ai Radiohead, con due terzi dei Radiohead, è forse un passetto che porta più vicino all'idea degli Hate My Village, quindi non è un supergruppo, è un, come ci ha raccontato adesso Adriano, una fotografia di un momento musicale, di un progresso di quattro musicisti, quattro professionisti, una foto in musica. E tra l'altro ecco, su questo Milua avevi una riflessione sull'afrobeat, sulla deriva afrobeat di questo Nevermind Tempo, ti lascio... Sì, la mia... ovviamente io amo molto l'afrobeat e quindi il mio orecchio era molto abituato a quel tipo di suono, è stato uno dei primi che ho captato immediatamente, però ci sono anche altre cose che probabilmente io non riesco a riconoscere immediatamente. Quali sono le altre influenze che vi hanno gli altri stili o altri musicisti a cui avete tratto ispirazione in qualche modo? Guarda, non vorrei sembrare... Credo che questa volta ci siamo un po' ispirati a noi stessi, nel senso che... anziché andare a cercare fuori, nella giungla, abbiamo capito che in tutti i nostri difetti c'è tanto da... insomma si trovano tante cose che magari fuori non ci sono. E abbiamo lavorato su quelle, su quelli che sono i nostri errori di pronuncia, tutte quelle cose che il mondo ti dice, no guarda lo stai facendo sbagliato, stai suonando la chitarra come se fosse un sintetizzatore o la batteria non è completamente a tempo, oppure la voce è tutta glitch, tutta sbagliata. Ecco, quando ci dicono queste cose noi le mettiamo insieme e proviamo a costruirci sopra la musica. È ovvio che è un rischio, no? Perché fai qualcosa che non sai se piacerà, però non importa, non è importante, in questo momento della nostra vita è importante fare quello che ci piace, perché se fai quello che ti piace poi magari riesci a condividerlo con gli altri in maniera sincera. Questo forse è il nostro lavoro in questo momento. Allora, probabilmente ci sono delle cose che stanno succedendo nella musica fatta col computer che ci affascinano molto. Ci sono, se vai su Instagram, ci sono tanti ragazzi giovani che usano il computer in modo originale. Ecco, probabilmente ci siamo fatti anche affascinare dalle cose che succedono oggi, quindi l'utilizzo di alcuni strumenti piuttosto che altri. In questo senso probabilmente la tecnologia o alcuni macchinari sono stati importanti per poter interpretare la musica in un altro modo. Tra parentesi, su Roma si stanno creando dei movimenti proprio di composizione, di serate dove vengono fatte musiche elettroniche, non dei jazz set ma proprio live set a partire da algoritmo e costruzione del suono. Sono molto molto belli, diversi collettivi, ho sentito queste persone interessanti. Sono aderenti con quello che succede nel mondo oggi, no? Chiaramente sempre fenomeni underground, ma è bene che sia così, no? Se posso permettervi di dirti una cosa che volevo, anzi dirti più che altro, è che la cosa che mi è piaciuta molto del disco, questo è proprio il mio parere personale, è che nonostante il vostro lavoro sia riconoscibile, non è assimilabile, cioè nel senso si capisce, si riconosce che sei tu a suonare la chitarra o Fabio Rondanini la batteria, ma non perché è simile a altre cose che voi fate, quindi altri progetti su cui lavorate. Quindi è molto bello, è un ritrovare qualcosa ma in una veste nuova, quindi è comunque molto interessante per chi ascolta, perché è una cosa nuova però dove è come se incontrare degli amici ma in un contesto diverso. Sì, sì, è quello che proviamo anche noi. Guarda, effettivamente questo progetto ci ha eccitato da subito perché ci siamo accorti che quello che stavamo facendo era originale, dai, abbiamo fatto una roba che magari fino a lì non era stata fatta nel modo in cui l'abbiamo fatta noi, no? Ci sono tanti gruppi ai quali ci associano, tipo i Battles, ma è un'altra cosa, è un altro mondo. Noi abbiamo provato a risuonare delle cose di musica africana a modo nostro, come due bianchi di Roma. E inevitabilmente se lo fai in modo puro, con amore verso la musica, esce sempre fuori qualcosa di nuovo, è inevitabile, no? Nel nostro caso è uscito pure qualcosa di bello perché le persone coinvolte sono per bacco speciali. Cioè, Alberto ogni volta che canta qualcosa, no? È magico. Marco ogni volta che utilizza la sua strumentazione lo fa in un modo commovente. e quindi, ecco, noi ci siamo trovati come se fossimo gli amichetti che non si sono incontrati al liceo, ma ci siamo incontrati adesso e quindi ci divertiamo. E sul palco, anzi, per andare sul palco, come vi ritrovate? Al parchetto poco prima o c'è una struttura di base che parte da casa, un lavoro, una scaletta predisposta, una libertà di scaletta, improvvisazione libera, come vi approcciate? Il lavoro per il concerto è interessante anche per me perché ci vediamo e facciamo prima dei giorni di prove dove studi gli accordi, dove ripassi le parti, dove memorizzi alcune sequenze, fai una scaletta, no? Perché fare una scaletta aiuta sia te a entrare meglio nel concerto sia a creare una narrazione, no? Tale che il pubblico possa entrare in quelle che sono le tue visioni, no? Cioè, poi una scaletta è un po' come se fosse un encefalogramma di quello che ti passa per la testa, che solo con la musica riesci a far capire. Niente, poi una volta fatte queste prove c'è il momento in cui fai il soundcheck dove provi, vedi, lo strumento funziona, gli ascolti sono giusti, ma non ci mettiamo a rifare tutti i pezzi perché ci piace essere un po' sorpresi da quello che succede. No, sali sulle scalette, c'è un pubblico e quindi hai quella responsabilità di dare sempre il massimo. Cerchiamo di creare tutte le premesse per poter fare il miglior concerto possibile e viverlo al meglio, senza cadere in quella che è la routine e la ripetizione dei tour, perché un tour non è nient'altro che la ripetizione di uno stesso evento. E per farlo al massimo devi essere sempre come se stessi facendo quella cosa per la prima volta, secondo me. Bene, allora, io vi invito a mettere maiuscole non soltanto al Super Aurora Festival per chi è dalle parti della capitale d'Italia, ma gli 8 My Village sono in giro. Anche se state ascoltando questa intervista, questa chiacchierata nel 2047, cercategli a 8 My Village. Magari appunto nella nella Hall of Fame dell'Italia che sarà, oppure nell'archivio storico della musica bella del nostro paese, cercateli. Se siete fortunati di avere la possibilità di vederli dal vivo, correte. Io veramente non vedo l'ora. In questo spazio tempo, il sabato 27 luglio, suoneranno al Super Aurora Festival, insieme a veramente un gran bel po' di persone, ma appunto in generale sono in giro. Quindi non fatevi riscappare. Io ti ringrazio veramente tanto, Adriano. Sono veramente molto contento di questa chiacchierata. Grazie mille. Speriamo, come Radio Elettrica, di poterti invitare, potervi invitare, anche singolarmente, possiamo anche in studio, per magari una live set. Questo sarebbe una doppia buona notizia per tutti noi. Grazie. Grazie a voi. Ciao.